Inizia il 2012, Tommaso Ghirardi, presidente del Parma, ha subito una sfida delicatissima, l'Inter contro i crociati. Sì, è una partita molto difficile, indubbiamente la troviamo in un momento positivo, perché ha avuto un inizio di campionato magari un po' sottotono, ma sicuramente adesso è tornata l'Inter di prima. Perciò incontriamo un grande squadra, un grande club, cercheremo di fare il massimo, l'anno scorso abbiamo avuto dei risultati, uno negativo e uno positivo, speriamo di ripetere come l'anno scorso, di fare almeno qualche punto. Torna Giovinco, l'azzurro del Parma che può arrivare fino agli europei, chissà, magari anche da titolare. Giovinco è un giocatore che si sta consacrando con dei risultati importanti, sta facendo tanti gol, nutre la stima del CT Cesare Brandelli e per noi è una scommessa vinta, siamo molto soddisfatti, abbiamo investito per noi tanti soldi due anni fa e abbiamo un giocatore molto importante.